Un'esplosione tremenda, così violenta da sbalzare parte delle lamiere del fabbricato sopra i cavi dell'alta tensione antistanti. I calcinacci volati sugli edifici circostanti. Ieri, intorno alle 15, in contrada Patacca, Dercolano, lo scoppio all'interno di un deposito ha causato la morte di tre giovani. Sara Eurore Sposito, gemelle di 26 anni, originaria di Marigliano, e Samuele Tacifu, albanese, 18 anni appena. Lì dentro si fabbricavano e si stoccavano abusivamente fuochi d'artificio. Era il loro primo giorno di lavoro. Il sito, infatti, secondo le testimonianze, sarebbe stato aperto lo scorso weekend, in vista del periodo festivo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza e dei vigili del fuoco. Hanno scavato senza sosta tra i detriti, pietra dopo pietra. Alla fine, però, i soccorsi si sono rivelati vani. I corpi dei ragazzi sono stati estratti senza vita dalle macerie. Non si può morire così, ha detto il sindaco di Ercolano, Ciro Buonaiuto. Non possono morire dei ragazzi così. Non possono morire, non devono morire e non deve capitare mai più. Qui dentro si confezionavano fuochi d'artificio. Né al comune né nell'altra autorità sono mai arrivate richieste di autorizzazioni. Questo che significa? Che dobbiamo insegnare ai giovani che la via maestra, anche se la più lunga, è quella della legalità e quella del rispetto delle regole. Questo affinché ciò che è accaduto stasera non possa più riaccadere. Samuele lascia la moglie. È una bambina di soli quattro mesi.